Luciano Bucci, parliamo prima del Museo di Venaforo, sta avendo molto successo e c'è tanta gente, tanti complimenti, com'è il quadro? Il quadro è positivo, si continua a crescere su una visibilità nazionale e internazionale, ultimamente abbiamo avuto in visita anche il Presidente del Touring Club nazionale che ci ha fatto tantissimi complimenti e ci ha lusingato con parole che effettivamente confermano il nostro risultato che è quello di narrare la storia senza pregiudizi, con un aspetto umano e soprattutto raccontando i feri fatti così come si sono svolti, senza voler edulcorarli o esagerarli per creare sensazionalismo. Il Museo è una realtà che prende piede, ha preso piede e spero venga in qualche modo ancora più presa di interesse da parte dei governatori perché effettivamente fare tutto da soli non è facile. È stato amministratore, sindaco di Conca Casale, anche un pochino impegnato in politica. Qual è il quadro che ti sei fatto su quello che sta succedendo adesso in Afghanistan, questa tragedia? Come dicono tutti, a meno le persone che hanno giudizio, l'Afghanistan è stato il fallimento dell'Occidente e soprattutto vedere abbandonare quel popolo che stava riconquistando con tanto sacrificio delle libertà sociali, le libertà culturali, veramente con sacrificio di vite, di anime, di lavoro, vederle abbandonare al loro destino, vederle piombare di nuovo in una sorta di primitivo stato sociale che soprattutto penalizza le donne, soprattutto penalizza le forme d'arte, penalizza la cultura, penalizza l'innovazione. Quindi tornare indietro di 20 anni rispetto a quello che abbiamo fatto noi, ma anche di 100 anni rispetto alla cultura che normalmente viviamo, secondo me è stato un errore. L'Europa, gli Stati Uniti devono prendersi carico di quello che sta succedendo, non tanto facendo il ponte di accoglienza che sicuramente serve e si deve fare, ma tornando lì e impedendo la rinascita dello Stato talebano, perché lo Stato talebano non sarà mai uno Stato democratico, non sarà mai uno Stato che porterà benessere al Medio Oriente, secondo il mio punto di vista.